Sicuramente oggi c'è tanto ramarico perché ci tenevamo a portare i tre punti a casa per la prima di campionato, iniziare bene. Eravamo in vantaggio 2-0, speravamo di poter portare il risultato così fino alla fine. Purtroppo si è pareggiato, però pensiamo subito alla partita di Caralla della settimana prossima e cercheremo di rifarsi. Secondo te nel secondo tempo cosa è mancato? Un po' di lucidità nel finale, gestire meglio alcune situazioni? Perché anche il Como alla fine ha fatto quei due gol, però non mi ha mai creato particolari problemi. Sì, forse c'è mancato un po' di lucidità, c'era il caldo, fisicamente si vede che eravamo un po' stanchi, però non ci sono scuse. Abbiamo preso due gol su degli errori nostri e cerchiamo di lavorare perché non ci sieda più. Per me questa è una stagione molto importante. Penso che qui ad Arezzo la società, il direttore, il presidente insieme al mister hanno fatto un grandissimo lavoro per gestire una squadra competitiva. Io sono molto contento della fiducia che mi hanno dato e qui insieme alla squadra cercheremo di far bene.